due secondi traccati 2 terra 1 sulla collina ne vedo 2 terra 1 di quelli lì a terra un altro di quello la dai cazzo è una marea di gente bro una marea ma arrivo tardi quando vedi che riesca a fatto che può succedere ok vedi il tetto alto e sicuramente 2 è sorre stabile qua l'ho ucciso mamma ucciso ti è ucciso mi fanno cazzo mi fanno non guardatemi non guardatelo non guardatelo la terra quello sopra di noia era anche lui l'altro è già giù non so dove qua 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 aspetta è l'ultimo è sopra è sopra è sopra qua proprio fatti fatti cinque bombe cinque bombe buono start un po impegnativo un po a cazzo di cane perché siamo veramente messi male però l'altro l'ho fatto proprio in trick questo che era un trick shot ovviamente non voluto penso sia anche ovvio ma già mi stupido di me o dietro moon ok arrivo dimmi dove è non capisco da dove devi andare tra loro a forse l'ho visti si no no ecco avanti dove cazzo sei ah di qua però l'ho craccato e scappato eh almeno 6 6 si è qua sopra dove stanno? è proprio sopra il tetto sopra il tetto qua non cado non cado non cado berro vado vado mamma mia che fliccata bro sono due le... no uno qua vado con silenzio sto salendo sto salendo un escenso sono due sopra due due sopra due sopra berro si si c'ho silenzio non mi sentono non mi sentono fatti due fatti a me fatto? no l'altro è sopra terra uno sotto si è restato il mio si è restato il mio dove? fatti 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 bravissimo ha rotto qualcosa questo questo ha rotto qualcosa mi sto pisci a sotto mi sto esplodendo devi suotare il birillo se devi suotarlo suotalo e t'aspetto no no c'è gente c'è gente c'è gente secondo me è lo stanzino eh ma non c'è nessuno no dall'altro lato moon eh e non si può salire qua bello se tu pensa che devo fare sto arrivando eh ti provo ad aiutare oh oh c'è uno con me vero è stato pure sparato eh c'è l'altro terra uno una terra fatto qua che io ho terra uno di qua terra un altro sopra o sotto dove? la casa qua devo scendere devo scendere devo scendere ha craccato a me due secondi esco lo gette pure dietro non cado pure questo? lo sta restando su? lo vedo non cado pure sopra? bravo ma con il car qua ho fatto il calamo ma quanta cozza è comodo quanta chi ci abbiamo? buone macchina 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 un po' da me sto arrivando dentro banca? sopra 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 secondo piano l'ho sfonato però calcola ok sopra sono dietro di te che cazzo è? oh un altro un altro ma cosa stavo facendo? questo era fermo a guardarmi i bot glamorosi bro questo era così moon mi giro c'è uno qua così fermo un gargoyle nemico nemico arrestato allora nemico è qua bisogna andare arrestato qua di fianco vuol dire che è qua non è che c'è valgulag però ah no hanno arrestato qua oh no hanno arrestato arrestato poi c'è una valanga di soldi aspetta un attimo facciamo autoress autoress wav wav no non lo tirare non lo tirare abito di non tirarlo non lo tiriamo camion camion c'ho due c4 inseguilo 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 hittato hittato una volta cazzo atterrato non ci credo ma craccato no c'è un altro perché c'è un altro vero noti ma c'è un team non ho corazze non devo fare una roba no io le corazze ce l'ho io servono oh c'è uno qua da me fai morto c'è un altro qua c'è un altro che me spara ho fatto un altro ho fatto un altro come che sta fatto oh ma sfornato mi resto mi resto mi resto sta nel secondo piano quindi non riesco a vederli senti giriamo un attimo giriamo un attimo e non direi sto arrivando non so dove la mia macchina ho fatto subito vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua aspettati 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 ho provato vanno con il black i vanno confioso ero convinto che ti a scappare da me due secondi traccati due terra uno arrivo adesso bussola macchina aspetta 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 era nascosto dove berro si sono lì dove c'è il gabiotto ma è un full team occhio perché sono bastardoness questi si ti conviene scappare via vado via vado via vado via vado via mai così ci vedono a me vedono qua terra quello lì ok restando sotto sotto fatto a tutti l'autoressa fatto la sinistra ha strunato a strunato ci vuole piano vero aspetta ciò picco pic tre strunati flashati uno ce l'ho proprio sopra da solo bene solo solo sarà solo sarà solo dal secondo prenderemo no che prima c'è mica c'è abbia mica aspettiamo aspettiamo devono casca in tentazione ma di baci e manama aspetta davanti è nato bello c'è un saccato sta entrando terra terra l'altro ma è l'ultima qua sopra bravissimo 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 questa una bella suottata di cristo però quello è andato in opera la volenda di numeri a prendere la cassa secondo me eccolo 5 cade allo super uno e scandaloso gaffono se pazienti abbastanza Honey qua partino volo però pronto vado ora fatti tutti batti Andiamo ad andare in save, Mune, veloce. Hai tossito te, eh? No, quello là è mezzo morto dietro, non ti preoccupare. A posto, a posto, a posto, a posto. No, no, c'era un altro, infatti, l'avevo visto. È un full team, è un full team, è un full team a destra. Non forzare, non forzare, non forzare. No, 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 sto scappando. Il problema è che ci stavano guardando loro, che ci vogliono pusciare. Non bombi? Sì, molto meglio, meglio. Terra 1. A terra 2, a terra 2, a terra 2, Verro! Morti tutti. Sì, ma è morto anche il mio, nice. Nice, nice, nice. Bello, bello sto bombardo. Io c'ho un grappolo. Eh, ma qua non ci stanno, perché abbiamo ripulito tutto. Guardate, me. Davanti a me, proprio in punta. Prenderà sotto a destra. È sopra l'hangar. Dammi qua a sinistra. Dammi. Passiamo da sinistra, bro. Berro, berro. Dobbiamo crossare adesso. Se crossiamo adesso, poi vi tanto... Questa qua non chiude verso bond, chiude verso centrale. Stanno a sparare già a sinistra? Vai, 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 crossa, dai, crossa. Tanto tanto a crossare dobbiamo farlo, quindi... Dobbiamo prendere la roccia. Se giochiamo... Paura dell'hangar, eh. Paura del cosoli. Stanno già a sparare là, eh. Sì. Devo riprendere i kill. All'avanti. Io grappolo, grappolo, là in mezzo. Grappolo, là in mezzo, berro. È un poltino. Sono tutti con gli scudi. Allora, uno più alto, un team più alto. Ma ti stanno sparando. Hanno cato un team più alto assist. Ho preso una kill giù, ho preso una kill. Fino un team più alto assist, l'altro c'hanno quattro scudi. Uno sta dentro. Ne vedo uno, ne vedo uno. Sulla collina ne vedo due. Terra uno di quelli lì. Atterra un altro di quelli lì, atterra un altro, atterra un altro. Devo venire da noi, torniamo indietro, berri. Tastami, tastami, torna a me. Torna a me, torna a me. Dobbiamo prendere il muretto, bro. Dobbiamo prendere il muretto. Ma io qua c'ho un head glitch di Cristo, però, eh. Minchia, da qua c'ho l'head glitch naturale. Cioè, questi sono tutti morti. C'è un altro là. Craccato uno. Oh, è nemico in discesa sopra di noi. Craccato muore. Mi devo placare, mi devo placare. Il problema è che se ci arrivano al dietro siamo morti, eh, berrone. Ci sono quei due lì che stanno mirando noi, eh. Bisogna farseli per forza. Fatto uno, fatto uno, berro, fatto uno. Senti, io comincio un attimo a crossarmi. Vai, vai, vai. Per prendere il muretto. Io lo trovi qua? Ecco, pian piano, io prendo le rocce. Uso le rocce, io, eh. Terra uno di quelli lì. Controllo dietro, dietro un altro team, berro. Berro, tutto il team alla mia destra. Alla mia destra. Gli possiamo fare tutti. Tu pensa a quelli, io penso a questi. Tu pensa a quelli. Credo che vogliono busciare con il treno. Vogliono busciare con il treno. Mi chiamo il socio in una strage. Sto per fare una colla. Fatto uno, fatto uno. Ricarico. No c'è gente. Pronto, berro, arriva al treno, eh. Ho gente sopra al treno, cento, cento. Non cado uno. È morto, te lo finisco. Per me, per me, per me, per me. Sì, sì, sì. Due contro te, due contro te, due contro te. Già a prendere quelle rocce di prima, mon. Ok, ne vedo uno. Craccato. Terra uno. L'altro è dietro. Ce n'è uno dietro alla roccia. Bisogna crossare adesso, allora. Vai, ti copro, vai, vai. Uno è lì. A terra, quello lì. Ok, ok, ok. Bello, bello, bello. C'è un altro. Lo vedo. Uno finito, uno finito. Battaglia, amica, davanti. Sono davanti. Bravo, mon. 47. Dai, cazzo. Dai, berrone. Let's go, let's go. Che game. Buon salvataggio, berro. Bello, bello, bello. Buon salvataggio. Giocata tatticamente, credo, impeccabile questa partita in endgame. Inutile il car qua, eh. Inutile. No, raga, qua il car. In endgame penso che tipo 8-9 kill solo con quest'arma le potevi prendere.